Preside Di Domenico, a circa due settimane dalla ripartenza dell'anno scolastico, qui nella scuola media d'annunzio, scuola elementare, l'istituto comprensivo 1 di Roseto degli Abruzzi, si aspettava degli interventi importanti in modo da migliorare la situazione, soprattutto per quanto riguarda la struttura? Allora, naturalmente gli interventi edilizi vanno sempre richiesti. C'è una lunga lista, soprattutto per quelli che sono gli edifici più datati, che hanno bisogno costantemente di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Laddove questi interventi vengono dilatati nel tempo o comunque rinviati nel tempo, le situazioni diventano sempre più critiche, sempre di più. La Giannina Milli, in effetti, è stata anche questa una situazione spiacevole, manifestata proprio a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico. La Giannina Milli è nata come sede della direzione didattica, che era la scuola elementare prima della costituzione dell'istituto comprensivo. Successivamente, da quell'edificio, sono poi state, come dire, create altre strutture. La scuola primaria d'annunzio, successivamente la scuola media d'annunzio, ma è sempre rimasta comunque come sede affidata all'istituto comprensivo Roseto I. Fino a che, insomma, sono arrivata. Al piano terra c'è la scuola dell'infanzia. Primo piano era sede degli uffici di segreteria, aula magna, quindi l'aula per le nostre riunioni collegiali, sede dell'archivio. È comunque una risorsa importante nel caso di necessità o di criticità rilevate negli altri plessi. È capitato, nel periodo in cui io sono stata dirigente, di fare ricorso a quelle aule per poter fronteggiare delle situazioni di emergenza, ad esempio presso la scuola primaria Schiazza. Diverse aule, diverse classi, sono state spostate temporaneamente in attesa di risolvere le criticità del plesso. Questo fino a poco fa, se non che nel 2018, anno scolastico 2018-2019, il liceo SAF ha chiesto di poter utilizzare l'ultimo piano della scuola Milli. L'amministrazione comunale ha dato la disponibilità e in questa disponibilità è stato incluso anche il primo piano. A fine agosto mi è stato detto che c'erano dei lavori di adeguamento, la provincia stava facendo dei lavori di adeguamento, quindi ho inviato una diffida, a seguito di questa diffida la provincia mi ha comunicato invece che dal 2018, in particolare 14 settembre 2018, c'era un atto di concessione a titolo gratuito da parte del comune di Roseto alla provincia sia dell'ultimo piano che del primo piano dell'edificio Milli e io avrei dovuto chiedere l'autorizzazione all'utilizzo di questo piano.